La squadra di Rossignol La squadra di Rossignol che sviluppa gli scarponi da sci è composta dalle stesse persone che sviluppano gli scarponi adulti. Mette la stessa esperienza e lo stesso know-how per quanto riguarda la modellazione CAD 3D, la messa a punto dei prototipi hard e dei prototipi soft, la prototipazione rapida, per esempio stampanti 3D utilizziamo, per quanto riguarda test di laboratorio e analisi dei risultati e per quanto riguarda test di messa a punto sia a secco che soprattutto su media. La squadra di Rossignol La squadra di Rossignol Grazie a tutti